La professoressa Michela Costantino è ritornata dopo qualche anno di chiusura per ovvie ragioni da pandemia al certamen Giustino Fortunato. È l'istituto che l'accoglie sempre con piacere e lei è un po' la madrina storica di questa manifestazione. Troppo generoso. Sì, io torno molto volentieri in questa scuola che è veramente una operosa fucina di creatività, di sinergie progettuali che sempre, come sempre, più di sempre, anche quest'anno ci sta mostrando esperienze molto significative. È un pensiero, quello che parte appunto da Fortunato, che arriva all'Europa e in questi anni c'è stata anche una evoluzione nei linguaggi che si sono sviluppati durante il certamen. Certo, indubbiamente. Io devo dire che in genere i temi del certamen si ispirano sempre all'opera del nostro padre Giustino, padre ideale, Giustino Fortunato. E quando è stato proposto nell'autunno scorso il tema del certamen, devo dire con onestà intellettuale che io avevo delle perplessità per tante ragioni che non sto qui a dire. Ma poi, considerando proprio l'orizzonte socio-politico-economico-culturale, ho pensato che era veramente necessario parlare dell'Europa. Lei ha un articolo appunto di qualche anno fa. Sì, è del 14, perché nel 14 il Quirinale organizzò per le scuole italiane un'iniziativa sull'Europa che aveva proprio questa denominazione. L'Europa siamo noi. Tre incontri, uno sull'Europa dei diritti, l'Europa delle scienze, l'Europa della cultura. E io ho conservato nel mio archivio quest'articolo perché in quell'occasione Umberto Eco, un gigante della nostra cultura che purtroppo non sorride più sulla terra, e il grandissimo Renzo Piano, uno dei più grandi architetti del mondo, hanno lanciato un appello ai nostri giovani. Certo, non c'era la guerra tra la Russia e l'Ucraina, ma che cosa ci dicevano? Guardate, ve lo mostro, perché è bellissimo. È bellissimo questo articolo. Cari ragazzi, ringraziate di essere europei. Perché partendo da una data ideale, la caduta dell'impero romano, il 476 dopo Cristo, per 1500 anni il mondo è stato veramente massacrato dalle guerre. Ci sono stati ininterrotti massacri. Quindi niente di nuovo questa invasione russa. Tante e tante guerre, però quando loro nel 14 appunto sono intervenuti a parlare ai giovani, hanno detto ringraziate di essere europei. Perché da 70 anni, dal 1945, dopo la sola seconda guerra mondiale, con oltre 60 milioni di morti tra militari e civili, voi siete i figli di 70 anni di pace. Io dico adesso di 80 anni di pace di questa Europa, tranne il conflitto dei Balcani che era abbastanza localizzato, e c'è questa guerra che speriamo finisca presto. Ecco, ringraziate di essere europei, perché godete, avete, siete i figli di questi 70 anni di pace. Capisce cos'è importante per i giovani? Ecco, insomma, essere europei. Una battuta finale, l'Europa siamo noi, mutuando una canzone di De Gregori, la storia siamo noi. Questi ragazzi saranno la storia, faranno la storia in positivo? Certo, è certo, perché noi non dobbiamo mai chiudere la spina della storia, mai dobbiamo chiudere la spina della storia, perché senza la storia, senza memoria, non siamo assolutamente niente. Anzi, la storia è qui, papà Giustino Fortunato ci aiuta, proprio come padre. Pensate alle conquiste sociali, economiche, che ci sono state dopo tante battaglie civili e politiche. Ecco, noi siamo anche i figli e dobbiamo godere, anzi lanciare per il futuro questa sfida di nuove conquiste sociali e culturali.